L'Alba Triatica ottiene la seconda vittoria consecutiva su un campo difficile, mentre il Ponte Romano non riesce a prendere punti per allontanarsi dalla zona play-out. Fischia il signor di Renzo di Bolzano. Poche occasioni per entrambe le squadre e tutte per la formazione di Zotti. Dopo 9 minuti prova la conclusione foglia, Bafarnese attento blocca. Poco dopo ci prova Lorenzo Emili con un'azione personale, ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete. Al 42 arriva il gol dello 0-1 con un grande tiro al volo di Giambè. Si va a riposo sullo 0-1. Il secondo tempo è più divertente del primo. Dopo 7 minuti, grande occasione per Manuel Di Sante che, a tu per tu con Petrini, manda sul fondo. Al 12esimo Lorenzo Emili da corner Pescapicone, che fa partire un gran tiro, ma Farnese respinge. Poco dopo Manuel Di Sante prova un'azione personale, con la sfera che finisce tra le braccia di Petrini. Al 23esimo arriva il raddoppio della scuola di Zotti, con Miani che con un tiro al volo gonfia la rete. Il Ponte Romano prova a reagire al raddoppio, prima con un tiro di pallitti sulle braccia di Petrini, e poi con Samuele Di Sante con un tiro dalla distanza. Al 36esimo proteste da parte del Ponte Romano, che chiede il rigore, ma l'arbitro concede solo la punizione. Sul calcio di punizione, Francia prima colpisce la barriera e poi manda a lato. Nel recupero, l'alba triatica la chiude, con la rete di Miani, che a tu per tu con Farnese non sbaglia. Sentiamo il commento dei due tecnici. Il primo tempo è stato equilibrato, partita non bella, un campo difficile da giocare. Non c'erano state occasioni né da una parte né dall'altra, sono stati bravi loro a trovare il gol nel finale di tempo. Poi probabilmente c'era anche un fallo sul gol, però sappiamo che su queste situazioni non siamo fortunati, per cui ci siamo abituati, non è un problema. Il secondo tempo ci sono sbilanciati un pochino, abbiamo provato a pareggiarla, un'occasione ce l'abbiamo avuta. Purtroppo facciamo fatica a metterla dentro, la prima situazione e il secondo tempo ci hanno raddoppiato e poi è diventata difficile. Abbiamo detto anche alla vigilia, era una partita che io temevo moltissimo, perché il Ponte Romano, l'ho detto anche all'andata, noi vincemmo una partita 1-0 all'ultimo minuto. è una squadra forte, è una squadra molto organizzata e con delle ottime qualità individuali. Quindi questa è una vittoria per noi molto importante, non nascondo anche che il 3-0 forse è un risultato fin troppo ampio, perché in fondo abbiamo avuto tre palle e golle e l'abbiamo buttata dentro. Permettimi un complimento particolare, oltre a tutti i miei ragazzi, ma a Miani Simone, che ha avuto la febbre fino a risera a 38 e mezzo, quindi non pensavo di schierarlo, oggi si è presentato al campo e ha fatto una coppia. Grazie.